Paese Lucano I murati rioni d'arabi e di saraceni armoniosi convivono nel tuo storico centro. Un tempo hanno assistito a lotte e contese, a momenti di vita e comunanza, quando le porte aperte degli usci accoglievano il vicino e ogni viandante. Il Duomo con le romaniche braccia s'allunga verso il basso per proteggere il popolo di fede cristiana e superstiziosa credenza.